L'amministrazione comunale di Giffoni Vallepiana sta intensificando i controlli sull'intero territorio per combattere il fenomeno del deposito e dello scarico illegale di rifiuti. Le operazioni, frutto della sinergia fra la locale caserma dei carabinieri, la polizia locale, le associazioni di volontariato Southland e Guardia Rurale e Nogra, hanno già portato all'elevazione di numerose multe. Nelle scorse settimane sono stati già fermati e sanzionati con multe salatissime e diversi trasgressori, afferma il sindaco Antonio Giuliano. Noi non ci fermeremo, ribadendo l'invito ai cittadini ad uno spiccato senso civico per evitare di incorrere in pesanti ammende. Se Giffoni vuole differenziarsi ed innalzarsi a modello per l'intera comunità salernitana, c'è bisogno dell'aiuto e della comprensione dei nostri concittadini.